Dopo cinque anni trascorsi a Sapri, il triathlon si trasferisce a Scario, nel comune di San Giovanni Appiro. Sapri c'è stato un problema tecnico-logistico per cui è stata la gara spostata per quest'anno a Scario, dove Scario ha dato massima disponibilità all'amministrazione. Io ho chiesto già alla federazione di prevedere un programma su Scario pluriennale, come su Sapri, perché sicuramente verrà ripreso anche il discorso su Sapri nel 2018, anche su Scario e aggiungo anche Policastro. Al Scario la macchina organizzativa è in piena attività, già stabiliti i dettagli delle gare di nuoto, ciclismo e corsa a piedi che dovranno sostenere gli oltre 200 iscritti al triathlon. Per l'amministrazione comunale si tratta di una manifestazione sportiva che può dare un grosso contributo nell'azione di destagionalizzazione, per questo ha deciso di sostenerla dal punto di vista logistico ed economico. È sicuramente un messaggio proporzionale per quello che è il comune di San Giovanni Appiro. Il nostro slogan che riesce a coniugare mare e montagna in soli 7 chilometri viene sicuramente esaltato da una competizione a livello nazionale, qual è la prova finale del ranking goal di triathlon a distanza olimpica. Proprio ieri sera abbiamo avuto un incontro con i vari proprietari delle strutture ricettive, con le varie associazioni del territorio, proprio per coinvolgerli in questa grande manifestazione che in un periodo di bassa stagione porterà tantissime presenze su Scario e quindi sull'intero comune di San Giovanni Appiro. Che investimento ci sarà da parte del comune? Il comune ha investito già una somma di 3.000 euro affinché si potesse giungere al compimento di questa grande giornata di sport. L'appuntamento con il triathlon a Scario è per il prossimo 21 ottobre.